allora manca veramente poco avvio di questa semifinale del trofeo parent one categoria 2009 e allora è tutto pronto per cominciare questa prima semifinale l'arbitro fischia l'inizio con il primo possesso per il fiumicino numero 16 della isola sacra adesso se ne va numero 6 igneroli che difende con il corpo buona la palla riconquistata dall'isola sacra attenzione la possibilità di superiorità numerica non sfruttata conclusione con ora utile per sponde e appoggi di testa ancora palla centrale cura prova aggredire non riesce palla verso sinistra conclusione col destro veramente interessante questa padone con la testa bene per leone stop il pallone va avanti a cercare cura la riconquista bagliesi attenzione alza la testa conclude col mancino grandissimo intervento del portier addirittura il la conclusione col mancino di bagliesi adesso nuovamente passa in qualche modo conclude col destro e questo è un grandissimo gol del capitano thomas bagliesi 1 a 0 gol di peggiole fattura adesso qualche modo la riconquista l'arsenal esterna con zikai cercando culura che la fa passare 3 contro 2 attenzione alza la testa però la conclusione col mancino ultima nel primo tempo pallone che passa in qualche modo allora l'arbitro guarda nel mentre del gol del 2 a 0 l'orologio allora 2 a 0 rete ancora del capitano diciassettesimo minuto isola sacra passa ancora in vantaggio in pieno recupero di primo tempo attenzione a zikai adesso che prova a passare avanti l'arbitro guarda l'orologio fine primo tempo 2 a 0 per l'isola sacra allora l'arbitro fischia nel secondo tempo subito l'arsenal provare a a ripetire la sinistra rimessa laterale immediatamente conquistata tra con il destro numero 8 palla sul secondo palo se la ritrova in qualche modo d'angeli e poi l'hai ritrova il pallone tra i piedi prova una voletato fisso ancora sullo 2 a 0 oggi prova ad andarsene stersa col destro conclusione bella finalizzazione del numero 10 sfortunato il pallone catturato dal portiere che fa ripartire subito i compagni per terminare a breve la partita l'arbitro è già col fischietto in bocca infatti è così 0 2 isola sacra allora accede alla finale della categoria 2009 del trofeo parent one saluto dallo stadio comunale fiuggi da live sport academy per sport in tour